Ciao amici, giovedì scorso ho avuto l'onore di essere in trasmissione a Telenord in qualità di esperto di funghi e tartufi, volevo ringraziare di cuore il conduttore della trasmissione che è Gilberto Volpara, volevo ringraziare tutto il suo staff e soprattutto chi segue la mia pagina YouTube che è Erika, il mio cameraman Carlo, mi raccomando tutti i giovedì alle 20.30 su Telenord Signoria, non perdetevelo. Mi raccomando, non vi perdete i miei video tutti i giovedì alle 17 sul mio canale YouTube, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina. Signoria, poi è uscito di Fusi, Elena Mellino, protagonista di un video di Getunet, beh di Fusi ne parliamo anche chi stasseia con questo personaggio con la riva da Ciavei, che si chiama Francesco Gallagher, ma il cognome si chiama? Gagliotti. Che ha promesso di non domandare come mai Gallagher, ma da casa se lo domandiamo, come mai? È una storia lunga, hai discutere, dimmi usci. Ho discutere che sono in tuo bosco perché Carolina, chi è in profumo che non so come ti fai a stare lì? Infatti, secondo me, allungo la manina tra un po' quando siamo in pubblicità. Ma c'è immo subito le cose, caro professore, perché che è Castagne, che è i Fusi che ho Francesco l'ha detto, facci. Eh, per forza, non che ne è ova. Perché ormai è la stagione della netta, che non sono i tartufi veri, ma è trifoli. Perché in senese si chiama trifoli. E che è una differenza, che sono quelli negri, ma poi? E quelli gianchi, che sono quelli di giù, pre-ge, doppie monte. Allora, ti ti è in curgo, ma in questa stagione ciò che è in cucina ti stai in ti boschi? E forza, mi rendeteci una nave fonsica. Puoi muovere subito il primo video delle tue ricerche, ma pregi, come siamo quest'anno? Eh, l'anno passo è l'ancai, perché essendo un fugo ha bisogno di pioggia, no? Scegnate quelli che parlano l'italiano. Ah, vabbè, allora parlo in senese. Stanno chi che le sta in una bunga che le viene a tante egua, e che tante trifoli. Però, scusa, ti ti è messo a fare i video con una figia brava, tra l'altro, come si chiama? Erika. Erika. Non c'è quelli video lì. Erika, che ti è messo a vedere dove nasce i fonsi e dove nasce le trifoli? No, no, faccio vedere dei video, ma non dico dove vado. Appunto. Per esempio, se ti domande dove siamo lì, chissà. Non si può dire. Sì, bene. È in segreto. E trifoli? Diamo Valdavetto. Eh sì, va bene, grazie. E trifoli si può anche oggi, fino a quando si trovano? 31 di dicembre. 31 di dicembre. Poi si era raccolta, perché c'è una... C'è un'apertura e una chiusura. Da 24 di settembre al 31 di dicembre. E come siamo come pregi? Su jankuowa? 3500 euro al chilo. E su negro? 300 euro al chilo. È una bella differenza. Ah bene, seguo io. Mi dice che ti devi fare un moto, eh? Poi mangiare un po' di trifoli, va bene. Un altro dilemma, invece, un saieva. Ma perché in sueno va a trifoli? Perché custano 3500 euro al chilo. Anche per il passion. Perché a me... Ma come ti l'hai scoperta questa passion? Eh, tramite un amico che... Allora, a me la sua passion ho diffusi, no? Mi ha poi da piccino portato in tuo bosco per fusi. E ho conosciuto un uomo che è a petrifoli e mi ha detto Ma hai detto in figlio come ti perché non si pigia un bello cagnetto? E che cagnetto ti ti è pigio? Ho pigio in Lagotto Romagnolo. E ho quanti di cani? Tre. Tutti da meggi una razza? Tutti da meggi una razza, però si può andare a conduire, delle leggi. Io non stavo a casa, in uno davanti alle telecamere. Faccio a turni, faccio a turni. Un turnover. E tutti i giorni ti chiede? Eh, ovaccia, tutti i giorni. E poi questa roba chi è? Ti riesci a cucinare la prima o poi, no? Anche. Anche. Perché l'obiettivo prima o poi l'è Arvini Ristorante, mi fa da capire. Esatto, sì. Vorrei aprirlo a Chiavari. A Chiavari. Carolina, ti è un amante delle trifoli? Sì, tantissimo. Come? Con l'uovo, con... La carne? La carne, no, però la pasta, la pasta. Perché prima mi ho elencato qualche piatto che mi stavamo... Un uovo che in Genova, che in Zenesula è? Con l'uovo, con l'uovo. Con l'uovo, con l'uovo, con l'uovo. Invece, un domenico, con l'uovo, mi ha detto che mi piace ben bene, Trifoli, giusto? Sì, mi piace tanto la cucinaia con i taggiani. Ah, fatti da qui? Fatti da me. Tra l'altro, non so se lo sai, se lo sai, ma per fare i tagliari di Basso Piemonte, ho 40 russi d'uovo per un chilo di fenga, perché non si mette d'acqua. E vengono in spettacolo, veramente in spettacolo. Ma se sta meglio in te discoteche, in te discoteche, in te boschi. Non è un grande amante dei Trifoli, invece lo professo, giusto? Beh, niente. Va bene, va bene, va bene. No, no. Come è che... Mi ha detto, sa de gaso. De gaso, sì. Va bene, un avversario de meno, eh, poi. Anche me, non c'è, quindi se che... Lei ancora di più, manco la sasami, se che è qualcosa, basta che non so se c'è troppo. Unsi veri, non quelli finti, va bene. Unsi quelli. Allora, ma vuoi anche sapere in questa autunno chi è buono o grammo per castagne? Eh, le storie dando buono, ma tutti gli anni le buono. Ma ti come ti fai? Per rustie? Come? Rustie. Su una tua specialità? Sì. Tapuela, mi metto lì in tuo cammino, ti sai che bisogna taggiare le cucutelle. Ecco, come bisogna fare? Spieghiamolo un po'. Intanto bisogna piegare le castagne. Tira un po', sciurare, cucciare la veda? Piggare il cucutello, fare le farinici su un chintaggio, perché se no è sciurpa, no? Con il cuore, poi mia nonna che metteva sempre un po' di vino in gioco e un po' di sà. E mi mantengo con la tradizione lì. E' ricocciuto. Però, mi fanno belle belle queste cose per l'altro. Sono belle, sono belle. Da dove arriva? Sono da Tarsogno, dove stiamo qua, in provincia di Parma. Mi chiede, intanto sei, vi chiediamo un uomo, Tony Rebora, che questi fusi di marmo, sei fabbrica o che dà o colore. Vi altri? Che la vienca a me poi, che la rubai. Perfetto. In tuo bosco, invece, guagna Gallagher, un nostro amico Francesco. Ma perché ti è messo a fare i video, vorrei dire? È una roba che le ha riservato nascosta da non dì. Sì, ma i video li fanno, ma non dico mai dove vanno i perfusi e per tartuffi. Ma chi? Conoce a posto? Eh no, no, no. Le piante le sono tutte uguali, mia. Tipo la mia le sono tutte uguali. Quindi, niente, le vengono a fare con i miei amici che mi hanno detto perché non posso venire conti e ti fai vedere la gente come ti trovi i fusi e i tartuffi. Ovviamente quelli che fanno i video ti paghi, noi non parliamo anche ma i tartuffi. Esatto. In trifoli, via. Esatto, esatto. E pago in trifoli. Ma stanno, le hanno detto bene ci per i fusi o ci per i trifoli? Le stanno in Anabunga perché sia i trifoli che i fusi le infusi tutte le due. Su chi le ha infusi l'ipogeo che nasce sempre per via dell'Egua. Quando c'è tanto nasce i trifoli infusi. E chi vuole sapere di ciò e chi vuole vedere i tuoi video come fa? Voleva andare su YouTube e su mio canale Gallagher attivare... Gallagher con due H? Gallagher, Gallagher e niente, che è un mio canale YouTube. E se ne è lì, un giorno dopo trorai fusi e trifoli da tutte le parti. Dito questo, Kao Gallagher, chi vuole iniziare, quale consiglio puoi dare? Intanto che vuole appassionare per cominciare a fare questo travagio. Poi bisogna assavungare, appeggiare un patent. Ah, che vuole patentare, eh? Forza, non ti puoi avere assenza. Ti devi dare un esame. È difficile? No, se ti appassionare e ti studi... Quanto tempo vuole? Io ero appassionato, ho studiato, sono 25 domande o ho fatto un errore. Eh, c'è chiuso un tre proverbi ogni settimana, Carolina. Ho fatto un errore, ho fatto un errore, solo mi ha promosso e quindi mi ha fatto un patent. E anche Carolina lei ha una buona strada, ma meglio di... È meglio imparare l'usenese o diventa un trifoli? Eh, ti rende 10 anni per trifoli, poi l'usenese va bene, se ti usi è meglio, ma poi... E queste sono le trifoli in tuo bosco. E quali sono in Liguria i posti da trifoli? Perché se dice De Alba, se dice Piemonte... Allora, Giancu nasce anche in Liguria, per assurdo. In tuo punente Ligure è che l'è millesimo, millesimo. Sì, siamo confini tra Liguria e Piemonte. Infatti, Liguria è... E fa anche affè adottare tutti i futbolati. Infatti, Liguria è, se no un negro ti trovi da tutte le parti, perché... Eh, il 20 settembre. No, 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 veramente. Da tutte le parti cosa ti senti? In tennis, in tifò. Cuca, perché senza can... Senza can è possibile. Dini. Di una cosa, cosa trovi veramente da tutte le parti? Perché me... Anche a Ugaliera. No, a Ugaliera non, ma me barba, con l'amanente in Vila Carrea, ho trovato un tartifo negro senza can. Eh, eh, perché... Aveva il naso buono, allora. Eh, senza can ho trovato. Non vedevi, mamma. Senti, che mostro fai a onda, che ho Galagher? Io fai vedere trifoli. Ma l'è difficile con il cuginale? Ma secondo me, no. È perché? A parte che l'ho messo, però... Ghe quattro cose da fanno. Quattro cose? Prima. L'oevo, autegami, ti metti addosso e lei ha morto. E lì posso anche arrivare che mie. I taggei, i taggei... Eh. I taggei bisogna anche qualche due, gli fessi i taggei. Mi fanno male, poi qualche due se la cattano. Ma lei ha quella cosa lì, le 40 oeve? 40 russi d'oeve. Russi d'oeve. Poi bisogna sfuggire su ti, poi arrutturarla, tenila con la mano, e con il cattello... Tac, 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 tac. Taggei a mano. Taggei a mano, così resta un po' più diverso. Poi bisogna mettere in la nucia del pittiero e addosso la trifola. E terza? La carne. La carne. La carne? In te due mani. Crua, Abbattura dentro, le fassone, quello che ti metti addosso e che sta ben crostino del parmigiano. Quarta? La carne è cotta, però che sta ciò ben un negro che ho già qua addosso. Capito. Anche le palanche e ho portato giù e sarci contento. E grazie anche a chi in affetto respiare in profumo la mia Carolina incredibile. Cosa ne hai mu dito? C'è Calagar? Allora, l'appuntamento, come tu ti sei già, insomma il canale YouTube. Con signoria. Con signoria. Anche con i video. Sì, ma mettiamo anche quello di signoria. Sto sei. Ciao.